Ciao a tutti, mancano pochi minuti allo scattare del coprifuoco serale, prima di scendere dal comune sono in compagnia di un assessore che approfitto per presentarvi, con il quale stavamo lavorando mettendo a posto un po' di carte che ci vedono particolarmente impegnati in questi giorni. E l'assessore ai lavori pubblici, manutenzione e patrimonio ufficio casa, l'architetto Mario Loconte. Mario, in questi giorni l'ufficio è stato impegnato per arrivare anche alla pubblicazione di un bando che tra l'altro scade tra pochi giorni, parlacene. Allora, parliamo innanzitutto del bando principale, quello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, intitolato Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare. Un bando che consentirà al nostro comune di candidare tre proposte progettuali, ciascuna finanziabile fino all'importo massimo di 15 milioni di euro, per la riqualificazione, la rigenerazione dell'edilizia residenziale sociale in primis, ma la riqualificazione di spazi e luoghi edifici pubblici in chiave di sostenibilità ambientale e densificazione. Abbiamo pensato insieme all'assessore, anche alla visione urbana, all'architetto Anna Maria Corcuruto e agli uffici, di lavorare su tre grandi aree della città, o meglio, approfittando del grande progetto di interramento della ferrovia, di lavorare su tre zone. Quelle che interesseranno la futura stazione nord della ferrovia, la stazione centrale e la stazione sud. Parliamo di aree, in modo particolare quella nord e sud, abbastanza degradate all'intorno. Quindi di qui la visione di rigenerare queste aree, a ridosso appunto di nodi importanti, quelli della stazione, per qualificarne dal punto di vista dell'housing sociale, dal punto di vista della viabilità dei servizi nuovi e dell'integrazione ai servizi già presenti. A questo bando, insomma, il Comune ha associato un bando appunto comunale che è sostanzialmente rivolto alle imprese di costruzioni, alle cooperative edilizie, agli enti del terzo settore, perché l'obiettivo è quello sì di ridisegnare una parte della città, ma di mettere in moto una rigenerazione del tessuto socio-economico. Quindi è una importante opportunità che rivolgiamo, insomma, alle imprese locali che saranno, sono invitati, insomma, a poter partecipare manifestando il proprio interesse a realizzare alcune parti, diciamo, del progetto. Il progetto è visionabile sul sito del Comune, gli uffici sono a disposizione per chiarimenti e la scadenza è alle ore 12 del 26 febbraio prossimo. E allora, è un'occasione per pensare insieme a come migliorare il tessuto della nostra città. L'amministrazione ha investito su quest'idea di ricucitura, perché lì dove c'è una cesura rappresentata dal tratto ferroviario, andiamo a ricucire alcune aree che rimangono sfrangiate. Ovviamente le nostre sono delle proposte che verranno candidate e che, ci auspichiamo, possano trovare il parere favorevole fino a giungere all'ottenimento dei finanziamenti previsti. In pochi minuti non si può raccontare di più, queste sono soltanto delle pillole, ma avremo modo per tornare ancora sull'argomento. L'occasione è stata utile per presentarvi qui accanto a me l'assessore Mario Loconte. Buonanotte a tutti! Grazie! Grazie a tutti! Grazie!